Per noi è una rivoluzione, Revolution BIM è proprio questo il titolo perché vogliamo dare un'opportunità anche ai cittadini direttamente di usufruire dei fondi del Consorzio BIM per incentivare il risparmio energetico. Per noi è una grande opportunità fare questo bando e sicuramente una opportunità anche per i cittadini perché si risparmia qualcosa anche in bolletta. Per noi è stata una vera emozione presentare questo bando che darà l'opportunità a tutti i cittadini che lo vorranno di installare impianti fotovoltaici oppure pompe di calore oppure caldaie a condentazione o perché no comprare anche elettrodomestici di classe A++. Per la prima volta che questo accade nel nostro ente sicuramente è una bella cosa che è stata voluta da tutto il Consiglio Direttivo e abbiamo impegnato per questo 350.000 euro perché non sappiamo qual è la risposta che viene data, però comunque già ci sono delle chiamate, delle domande che volevano sapere nello specifico quali erano le sorti del bando per cui se ci saranno ulteriori domande noi possiamo anche rimpinguare i 350.000 euro con altre risorse. Sì, allora per quanto riguarda il fotovoltaico noi abbiamo 2.000 euro massimi di contributo, per quanto riguarda le pompe di calore abbiamo 1.500, poi caldaie a condensazione 500 e per chi acquista un elettrodomestico il massimo è 500. Le domande possono essere fatte già dal 6 di marzo, quindi a Sportello, poi ci sarà anche la premialità per quanto riguarda l'ISE in ambito familiare e niente. Quindi sicuramente la risposta sarà tanda che perché andiamo a portare alle famiglie qualcosa di positivo, cioè il risparmio in bolletta.